Nei premi FUT Champions ho trovato questi due qui, Vlaovic e Berardi, andiamole ad inserire subito in squadra. Il prezzo di Berardi si aggira intorno ai 224.000 crediti, ovviamente i prezzi possono sempre variare, invece quello di Vlaovic si aggira intorno ai 299.000 crediti. Stile intesa per questi due giocatori, Vlaovic motore e Berardi cecchino. E adesso andiamole a provare. BERARDI BERARDI DUSAN 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 VLOVIC DUSAN DUSAN VLOWIC Berardi 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 Vlaovic Dusan Dusan Vlaovic Berardi 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 C'è Vlaovic Vlaovic Dusan Berardi Berardi Vlaovic Uno contro uno Vai Dusan Dusan Vlaovic Dusan Vlaovic 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 contro il portiere Vlaovic Vlaovic Dove la mette Oh Dusan Dusan Oh Offside Dusan Dusan Cari boys Se questo Berardi È forte Questo Vlaovic È devastante No Mira Si No No Grazie a tutti.